Ragazzi, avete difficoltà ad arrivare in divisione 1 o non ci siete mai arrivati anche se avete una squadra di ottimo livello? Per migliorare non servono gli epici, non servono i big time, servono le conoscenze, servono le abilità. Da oggi potete contattarmi per ricevere delle lezioni private di football personalizzate, dove vi insegnerò sia le nozioni base che quelle più avanzate, dove vi farò apprendere tutti i comandi nascosti di questo gioco, le funzioni sconosciute alla maggior parte dei player di medio livello e le skills che mi vedete fare nel mio road to glory. Tutto ciò vi permetterà di arrivare ad un buon livello e vi eviterà tante arrabbiature dovute alle delusioni che può dare questo gioco. Trovate tutti i social per contattarmi in descrizione, vi aspetto numerosi ragazzi. Bella ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Timo Play, oggi siamo di nuovo insieme per parlare di Football 2024. In questo nuovo video vi riporterò alcune indiscrezioni che parlano di un miglioramento grafico e di un probabile nuovo gameplay con l'aggiunta di nuove funzioni sul nuovo titolo Konami. Ti tratta solo di indiscrezioni ragazzi, nulla di ufficiale, però se vi interessa l'argomento, mi raccomando, guardate tutto il video. Questa parte è fondamentale, non andate avanti senza aver prima lasciato l'iscrizione con la campanella attivata, ma soprattutto senza aver messo un bel like a questo video. Più mi piace ci saranno, più contenuti informativi di questo tipo sul nuovo gioco che ormai è in arrivo, riporterò qui sul canale. Quindi mi raccomando, se apprezzate, non dimenticate di lasciare il like. Come sempre vi chiedo anche di passare dalla descrizione, all'interno di quest'ultima troverete tantissimi link utili, come ad esempio il mio profilo Instagram o il mio profilo TikTok, e anche alcuni canali consigliati, come quello del buon Alebenni86. Consiglio a tutti di dare un occhio ai video che pubblica perché sono davvero interessanti. Ok ragazzi, non perdiamo ulteriore tempo e andiamo subito a leggere le indiscrezioni di quest'oggi, che parlano appunto dell'arrivo di una nuova grafica, un nuovo gameplay, comunque un gioco migliorato sui football 2024. Queste indiscrezioni, che appunto non sono robe ufficiali, quindi mi raccomando, vanno preso con le pinze, provengono dal noto influencer brasiliano Renan Galvani. E andiamo un attimo a leggere cosa ci scrive nei suoi tweet. Partiamo chiaramente dal principio. Il buon Renan ci dice, i football 2024, per quanto ne so, avrà una grande attenzione al gameplay, quindi sarà migliorato il gameplay e anche di molto. Konami è fortunata che questa sia ancora l'unica cosa che trattiene i giocatori di PES, cioè del vecchio gioco prima di football. Anche se pensano che abbiano, vabbè questa parola non la dico, sul gameplay negli ultimi aggiornamenti, cioè pensa che comunque abbiano peggiorato il gameplay negli ultimi aggiornamenti, detta in maniera più fine. Dovrebbero portare due nuove meccaniche già al lancio, secondo il buon Galvanino. Andiamo a leggere. Una di queste meccaniche, pensa appunto lui, che sia il passaggio manuale con il secondo giocatore, cioè far scattare, andando a interpretare un attimino quello che sta dicendo, il far scattare in manuale il giocatore, come si poteva fare nei vecchi PES. Beh, se non avete giocato ai vecchi PES, sappiate che c'era una funzione per far scattare un giocatore che non si sta controllando in manuale in avanti. Spero che arriverà questa funzione perché davvero potrebbe dare un grosso miglioramento al gameplay in quanto si potrebbero effettuare degli inserimenti in maniera manuale, senza per forza fare l'1-2 con l'1-X che permette di scattare in avanti, eccetera. Quindi, manuali. E questa sarebbe una figata. Il gioco, inoltre, secondo il nostro Galvanino, avrà una notevole grafica curata. Quindi, niente di più. Cioè, purtroppo, a quanto pare, secondo Galvanino, le modalità di gioco al day one lasceranno a desiderare. Stesse campagne, sfide, campionati football, la Cop, probabilmente almeno il matchmaking della Cop, e il crossplay al day one, si spera. Forse la Master League e la modalità di modifica, che arriveranno al 99% entro la fine dell'anno, quindi ottobre, novembre, massimo dicembre, probabilmente, appunto, incoraggiano di più, incoraggeranno di più la comunità, ma anche adesso incoraggiano di più la community a non abbandonare il gioco. Per adesso. Qui gli fanno una domanda, ragazzi, la Master League uscirà a fine agosto o più tardi? E Galvani risponde, fine dell'anno, da fine novembre a dicembre. Ma io ci aggiungo anche ottobre, potrebbe essere anche ottobre. E cosa dicono, ora che avremo la modalità master e modifica alla fine di agosto? Non ho capito, cioè, evidentemente c'è qualcuno che dice che avremo la modalità modifica e la master a fine di agosto. Qua è crashato tutto, scusate ragazzi, vado a rifresciare. Non l'ho sentito dire da nessuno, e se lo dice qualcuno della community, sta diffondendo fake news. Infatti, ragazzi, chiunque dice che la master al 100% arriverà alla fine di agosto, sta dicendo cavolate, perché non abbiamo assolutamente la certezza. C'è una possibilità, aggiungo io, che la master league arrivi al day one, perché Konami ci fa una sorpresa? Non possiamo dire di no, mai dire mai, potrebbe essere, ma è molto, molto difficile. Certo che, se qualcuno sta dicendo in giro che la master arriverà sicuro al day one, sta dicendo fake news, sta dicendo cavolate, perché assolutamente non abbiamo la certezza. Anzi, la cosa più probabile, come ho ripetuto mille volte nei miei video passati, è che appunto arriverà dopo il day one, ottobre, novembre, massimo dicembre. Ma al day one ci sono pochissime possibilità, quasi nulle, aggiungerei io. Ma comunque, non possiamo dire che comunque è impossibile, perché con Konami, e ormai lo sappiamo, nulla è impossibile con la cara mamma Konami. Andiamo a vedere, chiaramente, le altre domande. Ragazzi, sono dovuto passare da Firefox a Google Chrome, e purtroppo mi crashava, quindi sono passato a Google Chrome. Speriamo che così non crasha, il computer sta dando un po' di problemi, in questo periodo veramente ne succede una dopo l'altra, è una cosa assurda, vabbè. Se nessuna modalità di gioco con il prossimo aggiornamento arriverà, io sono fuori, dice quest'utente, e penso di non essere l'unico a dirlo, cioè abbandonerò il gioco se non ci sarà nessuna nuova modalità. E Galvani risponde, Galvani risponde, quindi vi lascio già un arrivederci, perché secondo lui non arriverà nessuna nuova modalità al day one, ma arriveranno tutte dopo. Probabilmente ci sarà solo il crossplay, e speriamo almeno il matchmaking per la Coppa. Questo è quanto, ragazzi? Questo è quello che dice il nostro caro Galvanino. Andiamo a leggere poi altre domande fatte dagli utenti, dove Galvani risponde, e quest'utente chiede, ma il menu sarà modificato, o continueremo ad avere questo menu stile mobile? E lui risponde, stile mobile. Mobile significa mobile in portoghese. Poi andiamo a leggere, in questo tweet gli chiedono se ci sarà una modalità campionato, o una modalità Coppa per giocare offline con gli amici, esattamente come succedeva in PES 2021. E Galvani risponde, no, per adesso non ci sarà. Qui che cosa gli chiedono? Renan, amico, ci sarà qualche tipo di aggiornamento dell'illuminazione del campo, o qualche tipo di aggiornamento grafico per quanto riguarda i dettagli dell'erba del campo? Perché è orribile come appare oggi, appunto, il terreno di gioco. E Galvani risponde, ho appena sentito parlare di una grafica curata, infatti ha riportato questa indiscrezione. Niente di eccezionale, ma dovrebbero esserci miglioramenti in generale, sì. Per niente di eccezionale, non è che si passa alla Real Engine 5, ragazzi. Quello probabilmente arriverà più in là. Però Galvani dice, appunto, che ci sarà una grafica curata in generale, anche per l'illuminazione e anche per l'erba del campo. Poi, andiamo a vedere un pochettino, che dice qui, chiedono a Galvani se sa, se finalmente verranno sbloccate tutte le squadre offline. E Galvani risponde, andiamo a vedere che risponde, dovrebbero rilasciare qualche squadra in più. Scusate ragazzi, sto interpretando perché è tradotto male, ovviamente. Ma non tutte le squadre. Questo dovrebbe accadere solo con il campionato master. Cioè, solo con il rilascio della Master League, effettivamente rilasceranno tutte, tutte le squadre. E qui c'è un'altra domanda posta a Galvani. Sappiamo quando verrà rilasciata la modalità di modifica insieme alla Master League. Quindi, entro la fine dell'anno, ci dice il nostro caro Galvanino. Poi, ci sono sicuramente altre domande che sono state fatte a Galvani. Andiamo a vedere qui. Allora, ci saranno aggiornamenti grafici, li chiedono espressioni del volto, fisica del pallone, campo, abbigliamento del proprio, come sarà strutturato il campo, lo avevamo già detto prima. Perché avere una console di nuova generazione e usufruire di una grafica Xbox 360 è brutto, cioè non è granché. E lui risponde che sì, ci sarà comunque un aggiornamento grafico generale. generale. Quindi dovrebbero lucidare, dice così, anche tutti questi aspetti nominati da quest'utente. Poi, qui che dice, penso che a questo punto posso rinunciare al gioco se non rilasceranno la Master League. e lui dice, non ricordo esattamente se hanno seguito la road, anzi no, quest'utente dice, penso che a questo punto posso rinunciare a pensare che rilasceranno la Master League. Non ricordo esattamente, ma se hanno seguito la loro roadmap che avevano pianificato tempo fa, la Master League dovrebbe essere già qui. Bring the pass back, cioè vogliamo pass indietro, dateci pass indietro. L'ultima roadmap parla di Master League nel 2023. Quindi, ragazzi, 2023 è ancora 2023, quindi entro la fine dell'anno se non è cambiato tutto. Ed è interessante anche andare a leggere, secondo me, le domande che vengono fatte a Galvani, perché alla fine sono anche le domande che fate voi a me, quindi gli diamo subito una risposta. Il gioco sarà ancora gratuito? Sì, ma la Master League sarà pagata, ragazzi, perché la Master League sarà un DLC a parte distribuito a pagamento. Qui gli chiedono, Renan, quando pensi che Konami rilascerà qualcosa di nuovo sui Football 2024? Solo il giorno del lancio, cioè daranno l'annuncio solo nei giorni del lancio, quindi dal 29 agosto all'1 settembre. Purtroppo, secondo Galvani, non ne parleranno prima, arrivati a questo punto. Poi, l'ultima domanda che fanno a Galvani, l'ultima affermazione fatta a Galvani, è questa qui. Questo è ciò che conta davvero, cioè il miglioramento del gameplay e della grafica. Una partita di calcio che sembra una partita di calcio. Il resto è un plus, il resto è di più. Vedo sempre il miglioramento del gameplay di buon occhio. È così che EA ha vinto nel 2009, dato che il gameplay di FIFA è stato spazzatura per alcuni anni. Questa è l'opportunità di Konami. E Galvani risponde, gli ultimi aggiornamenti non hanno portato miglioramenti, hanno peggiorato molto il gameplay. Concentrarsi di nuovo sul gameplay non significa necessariamente che sarà migliore. Quindi, ragazzi, il fatto che probabilmente arriverà, tra virgolette, perché la base sarà comunque quella, una nuova grafica, un nuovo gameplay, soprattutto mi riferisco al nuovo gameplay, non significa che sia una roba positiva, perché magari il nuovo gameplay non ci piacerà. Io spero che sia migliore, lo spero, è una mia speranza, ma staremo a vedere. Beh, ragazzi, io direi che per questo video può bastare così. Fatemi sapere nei commenti che ne pensate, di tutti gli argomenti di cui abbiamo parlato oggi. Secondo voi la nuova grafica e il nuovo gameplay saranno migliori effettivamente? Oppure magari modificare il gameplay potrebbe portare addirittura a un peggioramento dell'esperienza videoludica? Ditemi la vostra nei commenti, perché per me, come sempre, è molto importante. Io vi ringrazio per essere stati miei compagnia, noi ci vediamo al prossimo video, un abbraccio e un saluto, la vostra Simo Play. Bella ragazza! Ciao!